241 lavoratori impiegati negli stabilimenti di Firenze, Massacarrara, Castiglione a Casauri e Tocco da Casauri a Della OMA, l'officina meccanica Angelucci, rischiano di restare senza lavoro. La doccia fredda è arrivata il 4 novembre, con la mancata conclusione della procedura di acquisizione dell'azienda di carpenteria metallica e manutenzione di impianti industriali da parte della Cividac, gruppo attivo nel settore delle costruzioni industriali e aggiudicatario temporaneo della OMA dopo l'annuncio della procedura fallimentare della stessa. A riportare l'attenzione su una delle tante vertenze che affliggono l'Abruzzo è Alessandra Tersigni della Fium CGL di Pescara, che attende notizie più certe dall'incontro in Confindustria con il curatore fallimentare della OMA. Siamo partiti da un mese importante che era ottobre 2019, dove la holding OMA è stata dichiarata fallita ed è stato già un duro colpo per il territorio. È stato nominato un curatore fallimentare che ha gestito l'esercizio provvisorio che è durato due anni. È stato virtuoso perché ha garantito occupazione, ha garantito salario, garantito diritti con un tavolo tecnico che ha lavorato per garantire tutti questi fattori. Quindi abbiamo messo dentro anche casse integrazioni per tenere tutti dentro perché il principio era tutti occupati con gli stessi diritti. Durante questo esercizio provvisorio ci sono state diverse aste. Aspettavamo tutti fiduciosi una proposta che fosse irrevocabile e vincolante. Due anni di attesa, di fiducia ed è arrivata un'offerta vincolante da parte di un gruppo del Trevigiano, la Cividac. Era sembrata un po' dubbiosa tutta la procedura, un po' fumosa, perché i tempi che c'erano in posto erano molto rapidi. Quindi l'accordo sindacale che doveva accompagnare questa acquisizione andava fatto in tempi rapidissimi e l'acquisizione dei lavoratori doveva passare attraverso una società nuova, una New Co. Non avendo avuto interlocuzione con la direzione aziendale di questa nuova azienda, ci eravamo preoccupati perché comunque non sappiamo con chi stavamo parlando. Ma abbiamo dato fiducia a tutta l'operazione. Il 4 novembre la Cividac doveva versare il saldo prezzo di questa asta, perché aveva dato soltanto un anticipo di 400 mila euro, doveva dare ancora 3 milioni e 6, non è arrivato il saldo prezzo, quindi di fatto ci ha gettato nella preoccupazione e 240 lavoratori non sanno adesso cosa hanno davanti. Abbiamo per fortuna una proroga dell'esercizio provvisorio fino al 5 aprile e in questi mesi dobbiamo trovare un acquirente che sia capace di valorizzare questa realtà per il nostro territorio. Dobbiamo tenerci stretta perché la OMA vanta dei clienti come Nuova Pignone, come Toto, dei grandi gruppi. Ci sono delle grandi professionalità, saldatori, ingegneri e dobbiamo preservarla il più possibile. Se necessario valuteremo anche di coinvolgere le istituzioni e quindi la Regione Abruzzo.